Un saluto per ritrovati come state, una buona giornata da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube. Vi invito come sempre a commentare numerosi, a lasciare un like, dai proviamo ad arrivare a 3000 like in questo video, facciamo questa sfida, ovviamente gratuito, il tutto, così come iscriversi a questo canale. Attivate la campanella se avete il Milano nel cuore, se siete rosso o neri mi raccomando iscrivetevi qui. Se avete amato, di solito dico Van Basten, Gulit, Kaká, Sheva, oggi voglio dire qualche giocatore, magari un po' meno da copertina, ma comunque è importante. Se avete amato Gianni Comandini, l'eroe del 6-0, dello 0-6, se avete amato Rocchi Junior, che era nella finale di Manchester e in campo anche infortunato, se avete amato il grandissimo Angelo Colombo, allora test superato, iscrivetevi qui, siete dei cuori rossoneri. Doc, sei in tempi più recenti, ecco, avete amato Buonaventura. anche se non abbiamo vinto tanto, Pasalic, che io avrei confermato al Minan per quel gol in Supercoppa, proprio in quel momento stavo chiedendo a mia moglie di sposarmi, pensate. Mi raccomando, fatelo numerosissimi. Siamo a una nuova giornata, con all'orizzonte la speranza che qualcosa effettivamente accada. La nostra squadra dirigenziale sta lavorando, ci dicono intensamente, consapevoli, che dovranno fare una campagna a cui si degna di nota. e adesso, insomma, stanno facendo parlare, stanno facendo chiacchierare, non stanno facendo nulla per cercare di calmare un po' le acque nel frattempo. Lo vediamo anche quotidianamente, qui su Minanello sono un po' in fermento, un po' in ebollizione. Tra l'altro sono curioso di capire poi chi ufficialmente sarà il DS del Milan, perché ci deve essere un DS, anche fattivamente per operazioni di mercato, da regolamento. Vedremo chi sarà, se sarà Moncada, se sarà Amstad, vedremo chi, se arriverà qualcun altro, chi eserciterà nel dettaglio questa funzione che è molto, molto, molto importante, oltre poi al discorso burocratico. Stiamo vedendo anche altri club che sono mossi un po' di più, la Roma, che ha preso Indica e O'War, sta provando a prendere in prestito Scamacca. Abbiamo visto comunque la Juve che sta provando a fare qualche trattativa, ma oggi non ha preso nessuno. Abbiamo visto anche l'Inter che sta provando a fare delle trattative e le loro, a differenza nostra, sembrano essere più altisonanti, ecco. C'è un però, c'è un però che mi è arrivato nel frattempo e che mi accende un po' di speranza. Ripeto, non voglio illudere nessuno, non voglio illudermi, però ecco, nei video scorsi vi dicevo, ma caspita, c'è sul mercato un giocatore come Sergei Milenkovic-Savic, che ha 28 anni e non ne ha 33, ha scadenza tra un anno, quindi va via quest'estate. Alla fine, la sensazione di tutti è che lo titolo potrebbe accontentarsi di 30 milioni di euro, c'è l'Inter, c'è la Juventus e non c'è il Milan. Io vi dicevo in un video che poi è arrivato e qualcuno mi ha detto guarda che, vi dicevo, secondo me il Milan ha il dovere di provarci per Sergei Milenkovic-Savic. Così come il Milan ha il dovere di essere più che alla finestra per Davide Frattesi, sul quale non cambierò parere dovesse andare anche un'altra squadra. Frattesi ricordiamo che ha 23 anni e ne farà 24. A settembre, tra due mesi, anzi tra tre mesi, alto 1,84, scadenza 2026 col Sassuolo, che è una bottega cara, lo sappiamo, ma accetta contropartite. Quest'anno ha fatto 7 gol in 36 gare, sono numeri davvero molto importanti per un giocatore che è anche nel giro azzurro e che avrebbe il vantaggio di essere anche, tra l'altro, un vivaio Italia. Sergei Milenkovic-Savic, i numeri clamorosi, 9 gol e 8 assist, sono numeri davvero straordinari per un centrocampista che non ha bisogno di presentazioni. Ebbene, ebbene, ebbene. Risulta, risulta che anche se non si scrive più di tanto di questo e o di questi, il Milan in realtà sia vigile e sull'uno e sull'altro. Vigile, non ancora operativo. Di Milenkovic-Savic comunque ne scriveva ieri tutto sporco che diceva derby tra Milan e Inter. Nelle ultime ore si parla anche di frattesi. Qualcuno, zona Milan, mi dice che comunque non sono, diciamo così, delle piste da scartare a priori. Né l'una né l'altra. Mi è stato comunque fatto presente che un anno fa, ad esempio, il Milan prende De Chetelare a 35 milioni di euro, oggi con 35 milioni di euro prenderesti l'uno o l'altro, senza problemi. a maggior ragione dopo un'estate in cui, sottolineiamo anche io questa cosa, Milan arriva al pareggio di bilancio, ha un attivo e ha incassato tantissimo l'ultimo anno come sponsor, come Votteghini, come Market Pool, come percorso in Champions League. Quindi se abbiamo speso 35 lo scorso anno, si possono spendere tranquillamente anche quest'anno. con l'idea che comunque bisogna fare tante operazioni e non tutte devono essere onerose. Adesso arriviamo anche al discorso come si può fare. Ripeto, facendo un po' un discorso tra i due, il preferito, anche perché lo conosce di più, di Mr. Pioli è Milinkovic Savic. Se ci fate caso, per prima di Milinkovic Savic ne parlo a Gazzetta, credo tre settimane fa, prima che ci fosse poi la rivoluzione con l'allontanamento di Maldini e di Massara. Si diceva, è il pallino di Pioli, è la fissazione di Pioli. In quel momento non sapevamo ancora che Pioli sarebbe stato promosso come manager all'anglo-sassone. Il messaggero da Roma, molto vicino a Lazio, ha spesso scritto, attenzione il Milan c'è, il Milan è su Milinkovic Savic. Poi, da ambito Milan, di Maldini e Massara, ci veniva smettita questa pista. Oggi non ci arrivano conferme dirette, però indirettamente, ripeto, nelle ultime ore mi è stato detto che il Milan è vigile, e su Milinkovic Savic e su Frattesi. Quindi non solo Juve e Inter che lo stanno facendo in maniera un po' più, un po' meno nascosta, un po' più alla luce del sole. Secondo me sono due giocatori forti, molto forti. Milinkovic è più pronto, Frattesi, lo dico sempre, le vibrazioni che mi sta dando Frattesi me le va date prima Tonali, prima ancora Barella, e il prossimo che me le darà sarà Baldanzi. Giocatore che vuole giocare però in un centrocampo a tre. È chiaro che quindi se prendi Frattesi lo puoi far giocare nei due, però per lui sarebbe meglio giocare a tre. Lo ha dichiarato anche recentemente in quella che è la sua estate più importante in cui dovrà scegliere anche il discorso sportivo per lui più funzionale. Nella Juve che gioca a tre, sicuramente, avrebbe il suo modulo ideale, nell'Inter altrettanto. Inter che ci prova, ma prima deve cedere qualcuno. Ecco, questo è il concetto. L'Inter per arrivare a Frattesi deve prima cedere o Brozovic oppure Barella. L'Inter per arrivare a Milinkovic invece deve cedere prima o Brozovic o Barella. Il Milan questa necessità non ce l'ha. Però, dovendo fare anche altre operazioni, per il Milan, mi spiegano, sarebbe molto importante incassare dei soldi. e cercare magari di far partire nell'operazione di player trade molto cara come progetto a questo nuovo Milan qualche giocatore che non serve o che viene ritenuto fuori progetto. Tra questi, se resterà, si farà la necessità virtù, c'è sicuramente Charles de Quetelare che ha 22 anni, lo ricordiamo, quest'anno ha fatto in totale 32 partite con un assist, non 32 partite intere, in totale 1101 minuti in Serie A, stagione 1481 minuti, quindi circa 15-16 partite intere. Servono 28 milioni di euro. Se il Milan da De Quetelare porta a casa 28 milioni di euro, allora fa più decisa e rompe gli indugi su uno dei due profili che abbiamo elencato. Milinkovic-Savic che è il preferito di Pioli, frattesi che viene ritenuto nel club un po' più funzionale a livello economico perché se il prezzo è più o meno lo stesso sui 30 milioni di euro Milinkovic chiede un ingaggio da 5 milioni e mezzo quindi sono 11 all'anno per 4 anni sono 44 milioni di euro più i 30 del cartellino un'operazione da 75 milioni di euro. Dall'altra parte ecco perché il club la dirigenza preferirebbe frattesi perché il prezzo è lo stesso sui 30 milioni. Se sono accetterebbe contropartite loro hanno chiesto già lo scorso anno Pobega però ci sono anche altri profili che potrebbero interessare al Sassuolo uno di questi potrebbe essere Colombo che torna al Minan ci sono anche altre ipotesi Gabbia non è un profilo che interessa al momento però ecco ragionissime voce alta magari ecco la carta Daniel Maldini piuttosto che qualche giovane della primavera il Milan di giocatori interessanti ne ha. Detto questo soprattutto al di là delle contropartite l'ingaggio che ti chiede Frattesi che potrebbe essere di 2 milioni e mezzo di euro sono 5 all'ordo all'anno per 4-20 più di 30 un'operazione da 50 contro i 75 di Sergei Milinkovitsavic per questo paradossalmente è più probabile che dovesse partire da Echetelare se andrebbe a quel punto su Frattesi per il quale c'è concorrenza quindi in questo momento su Frattesi ci sono alla luce del sole Juve e Inter anche la Roma che è una percentuale sulla futura rivendita e il Milan che mi dicono un po' a fari spenti su Milinkovitsavic c'è sicuramente l'Inter pare non esserci più la Juventus c'è il Milan a fari spenti potrebbe essere il grande colpo chissà non sto illudendo nessuno ragazzi lo specifico ancora una volta siamo in una fase molto primordiale però servono 28 milioni di euro da Dechetelare a questo proposito qualcuno l'altro giorno mi scriveva ma sei pazzo pensare che qualcuno possa arrivare e dare quei soldi per Dechetelare Dechetelare intanto va a fare l'Europeo Under 21 che è una vetrina importante se Dechetelare fa l'Europeo Under 21 come si deve come nelle sue corde pre-Milan si mette in mostra allora può richiamare sì l'attenzione di top club della Premier League non top club scusate di club della Premier League top da un punto di vista economico per farvi capire De Zerbi all'attore del Brighton che cosa ha detto su Dechetelare i giovani qualcuno lo indovini ma qualcuno lo sbagli ma non credo che lui lo abbiano sbagliato per farvi capire la valutazione che c'è del calcio europeo su Dechetelare o meglio ancora non possiamo dirlo ad esempio io volevo portare via Tonali dal Milan se fosse rimasto lì dopo l'anno che aveva fatto quindi non avessero puntato su Tonali io l'avrei portato via e guardate cos'è Tonali oggi quindi le sue qualità sono chiare dice non è detto che sia un colpo sbagliato per questo ci può stare che qualche club della Premier League di bassa media bassa classifica possa arrivare e dire te lo prendo oppure ragionando insieme a voi c'altro come ci piace fare arrivare e bastire un'operazione di prestito oneroso con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro perché oggi Milan lo ha bilancio a 28 se incassi 28 li puoi girare tranquillamente subito al Sassuolo o piuttosto alla Lazio se invece fai operazione di prestito con obbligo di riscatto a 20 lo hai l'incasso l'anno dopo quando sarà bilancio a 20 e potresti fare un'operazione del genere proprio con il Sassuolo che già l'ha fatto con la Juventus e non solo quindi frattesi prestito oneroso con obbligo di riscatto l'anno dopo quando tu incassi soldi di De Ketelare la speranza è che De Ketelare faccia un buonissimo europeo un europeo da protagonista perché no lo vinca capitano ricordiamo Evranx che nel frattempo è tornato al Fosburg finisce l'8 luglio quindi c'è tempo e margine poi per sperare che qualcuno arrivi diciamo che ecco è molto più facile arrivare a Milinkovic o a Frattesi se c'è di De Ketelare altrimenti è un po' più complicato perché con il budget a disposizione tu devi fare altre operazioni una speranziella dopo quest'ultimo contatto sinceramente ce l'ho non mi sto illudendo però mi fa piacere sapere che non siamo lì a guardare gli altri che cosa fanno ma anche noi un occhio addosso a Sergei Milinkovic e a Frattesi nel frattempo lo abbiamo dato nelle prossime ore dovrebbe esserci tra l'altro un incontro con il Sassuolo per capire un po' per cercare non di bastire una trattativa ma di toccare con mano la situazione e capire eventualmente quali contropartite potrebbero interessare a Sassuolo che è molto attento ai settori giovanili alla primavera un nome che potrebbe interessare potrebbe essere quello di Nassi che ha fatto abbastanza bene al Cosenza lo stesso Brescianini Pobego un anno fa ma non credo che sia ancora attuale vediamo Daniel Maldini magari potrebbe essere un numero interessante per loro piuttosto che Ciacatraore eventualmente qualche sacrificio lo puoi fare oppure pagare cash non sto dicendo che arriveranno non sto dicendo ovviamente non possono arrivare entrambi non sto dicendo che arriverà Milinkovic o che arriverà Frattesi ma che il Milan ha buttato l'occhio addosso su entrambe le situazioni è vigile è vigile sperando che poi si possa passare ecco a a fare qualche mossa un po' più concreta per quanto mi riguarda Sergei Milinkovic Savic nel ruolo di guastatore sulla tre quarti sarebbe perfetto lo pensa anche mister Pioli su di lui il fatto che Pioli abbia più potere mi fa sperare ancora di più per quanto riguarda Frattesi ha giocato anche nei due di centrocampo però lui è una perfetta mezzala di inserimento e sono entrambi i giocatori che portano gol qualità che al Milan manca nel centrocampo però è importante sarebbe determinante incassare 28 da decchettelare cosa che oggi può sembrare utopia ma dopo l'europeo under 21 chissà quindi forza decchettelare in ogni caso ditemi cosa ne pensate e chi preferireste tra Sergei Milinkovic Savic e Frattesi mi raccomando commentate con giudizio con criterio se vi va con ironia ma sempre con rispetto mi raccomando e iscrivetevi da questa parte chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano se avete amato comandini giunti ingotti buona avventura e non soltanto i big iscrivetevi qui un abbraccio